Sabato 27 e domenica 28 ottobre, al Centro Cesure di Terni, per tutti gli amanti dei funghi, è in programma la 39esima Mostra Micologica Umbra. La mostra, la prima nata in Umbria, è un'esposizione di funghi freschi, raccolti uno o due giorni prima dell'evento. Ogni esemplare avrà un cartellino con il suo nome scientifico e con la sua commestibilità. L'iniziativa, che è organizzata dal gruppo micologico Ternano, è visitabile sabato dalle ore 15 alle 20 e domenica dalle 9 alle 20. Quest'anno i funghi saranno un po' di meno, ma almeno 200-250 specie ci dovremmo arrivare lo stesso, non le 300-350, anche 400 che abbiamo messo in qualche anno. Quest'anno è una stagione particolare, l'Umbria non ha avuto molta acqua e in più gli ultimi 4-5 giorni abbiamo avuto vento tantissimo e forte che ha asciugato i boschi. Però in qualche modo faremo, andremo dove pensiamo o sappiamo che c'è qualcosa e metteremo fuori i funghi sicuramente. Tutti i funghi freschi ovviamente, in maniera tale che si possano vedere nelle loro caratteristiche essenziali. Il gruppo micologico Ternano organizza la mostra ma organizza anche dei corsi per conoscere meglio i funghi. Sì, facciamo sempre dei corsi e il prossimo comincerà l'8 di novembre, due giorni a settimana e durerà fino alla prima settimana di dicembre. Quanto è importante partecipare a questi corsi? I corsi sono molto importanti. Alcune regioni, tutte le regioni che ci stanno intorno, rendono obbligatorio fare un corso e avere un attestato di partecipazione al corso per dare le autorizzazioni per poter andare a funghi. L'Umbria non ha questo tipo di obbligo ma si sta cercando di vedere un attimo di modificare la legge Umbra per adeguarci un po' alle altre regioni perché abbiamo delle difficoltà noi ad andare a funghi nelle altre regioni per questo motivo. I corsi a che cosa servono? Servono per due o tre motivi. Uno è il primo a informare, informare sulle regole che ci sono per andare a funghi. Ogni regione ha la sua legge, tu devi sapere se vai in un posto o in un altro quali sono i comportamenti che devi tenere. Poi è informazione sanitaria, si danno delle informazioni per riconoscere i funghi, quanto meno quelli velenosi, in maniera tale che non si incorre in errori. Grazie a tutti.